Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui su ITSupport! Io sono Doc e nel video di oggi andrò ad illustrarvi nel dettaglio cosa sono e come funzionano i cosiddetti accumulatori agli ioni di litio. C'è svolgata la mandibola soltanto a pronunciarlo, agli ioni, agli ioni, sono delle teste d'aglio più o meno grosse così, meglio conosciute ed altrettanto molto meglio pronunciabili attraverso il nome di batterie al litio. Ma prima di cominciare, come sempre, se non lo avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social, delle quali troverete i link in descrizione e ad iscrivervi al canale, non dimenticando di attivare la campanellina delle notifiche così da rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Ricaricabili e leggere hanno rivoluzionato in maniera permanente il nostro stile di vita, permettendoci di immagazzinare, di conservare l'energia elettrica come mai avevamo fatto prima. Al giorno d'oggi le troviamo davvero pressoché in ogni ambito, negli smartwatch, nei tablet, negli smartphone, nei computer portatili e persino anche nelle modernissime auto elettriche, anche se in quest'ultimo caso la composizione di queste batterie è leggermente diversa. In ogni caso però, cosa sono queste batterie al litio? Come funzionano e perché la loro invenzione è stata di fondamentale importanza per la nostra società? Tutte ottime domande alle quali però andremo a rispondere soltanto tra qualche minuto, perché per prima cosa ho intenzione di spiegarvi, di illustrarvi il significato di alcuni termini tecnici che andrò ad utilizzare spesso e volentieri durante questo video, ovvero ione, elettrone, anodo e catodo. Uno ione è un'entità molecolare, quindi ad esempio un atomo o una molecola ionizzata, quindi provvista di una carica elettrica che può essere positiva o negativa, questo a seconda del fatto che abbia perduto o guadagnato elettroni rispetto alla sua condizione di partenza. Un elettrone è invece una particella cosiddetta elementare, quindi non divisibile e dotata di una carica elettrica negativa. Segue l'anodo, un elettrodo, un conduttore, sul quale avviene la cosiddetta semireazione di ossidazione e corrisponde in soldoni al polo negativo o quantomeno nelle batterie diciamo classiche. Chiude la coda il catodo, anch'esso un elettrodo, un conduttore, sul quale avviene però in questo caso la semireazione di riduzione e corrisponde per ovvia contrapposizione al polo positivo delle batterie. E attenzione, ho specificato appositamente che anodo e catodo corrispondono ai poli positivo e negativo nelle classiche batterie, quelle di uso comune, perché questa non è affatto una regola e anzi, per fare un esempio, in una cella elettrolitica questi sono invertiti, per cui attenzione a non dare per scontata la positività o la negatività di uno piuttosto che dell'altro. Ma tornando al nocciolo della questione, il protagonista di questa nostra storia è il litio, un metallo estremamente duttile, tenero, al punto che lo si potrebbe quasi tagliare con un coltello, scusatemi, un lapsus momentaneo. In forma pura esso è abbastanza instabile, di fatti è più facile trovarlo in forma di ione, dotato di una carica elettrica positiva data dalla perdita di un elettrone. Di fatti poi sono proprio questi ioni di litio la base sulla quale sono state sviluppate le moderne batterie al litio. Le quali, piccola parentesi inerente, hanno valso ai loro creatori la vittoria nel 2019 dell'ambito premio Nobel per la chimica. Tra l'altro, meritatissimo. Ad ogni modo il funzionamento di questi dispositivi, ai quali oggigiorno siamo largamente abituati, è reso possibile grazie alla capacità di questi ioni di litio di muoversi tra gli elettrodi che compongono la batteria, quindi tra anodo e catodo, riuscendo ad intercalarsi, a farsi ospitare, diciamo, all'interno dei materiali utilizzati per comporre gli elettrodi stessi. E fermi tutti, essendo io pienamente consapevole del fatto che questi sono concetti abbastanza complessi da capire, soprattutto magari per una persona che non è avvezza alle materie scientifiche, direi di procedere senza indugio alla visione di un video che ho animato apposta per l'occasione, e che va a spiegare il funzionamento, le reazioni chimiche che avvengono all'interno di una batteria al litio. Ipotizziamo per un attimo un circuito elettrico nel quale la nostra batteria agli ioni di litio è carica al 100% e collegata in maniera tale da poter alimentare una classica lampadina. A sinistra avremo il polo negativo o anodo e a destra quello positivo o catodo, mentre al suo interno la batteria medesima conterrà il litio di cui parlavamo prima. Bene, a questo punto, all'accensione del nostro circuito, una reazione chimica causerà il rilascio degli elettroni presenti all'interno del litio, dando così origine ai famosi ioni di litio, i quali scorreranno dal polo negativo verso quello positivo, ovvero dall'anodo al catodo, alimentando in tal modo la nostra lampadina, ma portando al contempo la batteria stessa a scaricarsi progressivamente fino al suo totale esaurimento. Al che, come faremo poi con qualsiasi altra batteria scarica, non dovremo fare altro che andare a collegarla ad una presa di corrente per ricaricarla di energia elettrica. Durante questo processo, ovvero quello di ricarica per l'appunto, all'interno della nostra batteria si andranno a verificare le medesime reazioni che abbiamo visto poc'anzi, ma al contrario. Di conseguenza, gli elettroni andranno mano a mano a riposizionarsi in corrispondenza dell'anodo, come faranno altrettanto anche i nostri ioni di litio, riportando, con i dovuti tempi, la batteria al suo stato di partenza, ovvero pienamente carica. Questo è in soldoni il funzionamento di una classica batteria a litio, e sperando tra l'altro che il video di cui sopra vi sia stato di qualche aiuto per la comprensione di questi concetti, direi di procedere verso il prossimo argomento, ovvero i circuiti di protezione. Il voltaggio limite, oltre il quale una batteria a litio inizia a danneggiarsi, portando tra l'altro spesso e volentieri i consai notevoli rischi per l'utente finale, è di 4,5V. Per questo motivo esse sono corredate di circuiti di protezione, dispositivi molto simili a quelli che vedete qui sopra in sovraimpressione, i quali svolgono una duplice funzione. Anzitutto evitano che il voltaggio totale all'interno della batteria superi i 4,4V, valore ovviamente cautelativo rispetto al limite estremo di 4,5V, ed altrettanto che questo non scenda mai al di sotto dei 3V, in quanto la qualcosa andrebbe a danneggiare la batteria analogamente ad una sovratensione. E prima che possiate domandarvelo, ci tengo a precisare che questi circuiti di protezione non intervengono in alcuna maniera nella ricarica della batteria, ma si occupano esclusivamente di monitorarla, andando eventualmente a scollegarla nell'ipotesi in cui le tensioni sforino, vadano oltre i livelli di sicurezza. E qui, piccola parentesi inerente, quando il vostro smartphone si spegne perché la batteria ha raggiunto lo 0%, sappiate che in realtà essa conserva ancora circa un 4-5% di autonomia, più o meno. Ma questo viene fatto appositamente per evitare che il voltaggio complessivo, la tensione complessiva all'interno della batteria, scenda al di sotto dei 3V, andando, come dicevo prima, a danneggiarla. Detto ciò, veniamo ora a parlare delle note dolenti, delle criticità che questa tecnologia porta con sé. Anzitutto quella che viene definita con il nome di thermal runaway, ovvero quel processo che porta alla combustione, in alcuni casi, nei casi più estremi, all'esplosione delle batterie al litio. Questo avviene quando la batteria in questione si surriscalda e una delle celle presenti al suo interno inizia a bruciare, surriscaldando e portando alla combustione anche la cella a sé aviacente, la quale farà lo stesso con quella ancora dopo, e via discorrendo, causando una vera e propria reazione a catena, che, come dicevo, potrebbe andare a culminare, nei casi più estremi, con l'esplosione del dispositivo. Mi viene in mente, ma perché è una cosa che ha fatto molto rumore, ricorderete sicuramente benissimo anche voi, la questione del Galaxy Note 7 della Samsung, il quale, mi sembra nel 2018, non vorrei dire una stupidaggine, ebbe delle problematiche serie dal lato della batteria, perché alcuni di questi dispositivi esplosero effettivamente nelle mani di alcuni utenti, facendo perdere un discreto quantitativo di punti alla casa coreana. Ad ogni modo, la causa di un thermal runaway è da ricercare in un difetto costruttivo, generalmente in un difetto costruttivo, o in un danno che ha portato al cortocircuito. Per fare un esempio pratico, prendendo nella fattispecie uno smartphone, ma perché è il dispositivo che bene o male abbiamo in tasca la maggior parte della giornata, tenerlo, dimenticarlo, per esempio in auto sotto al sole, in un torrido pomeriggio d'agosto, è sicuramente una buona miccia di innesco, come anche, cosa della quale magari uno non ci fa molto caso, gli urti anche di poca entità, quindi magari mentre vi state infilando i pantaloni vi casca il cellulare per terra, un urto di così, 20 cm da terra, nulla di che esteticamente intero, benissimo, però quest'urto potrebbe essere andato a creare delle microfratture all'interno della membrana o della circuiteria che compone la batteria. La qualcosa potrebbe andare a creare nel lungo termine, anche delle volte nel lungo termine, si può parlare anche di mesi, qualche problematica relativa a un surriscaldamento o a un possibile thermal runaway. Ad ogni modo, non disperatevi, non è che dovete cambiare il cellulare adesso perché vi ho detto questo, nonostante non si possa effettivamente verificare lo stato di una batteria dall'esterno del dispositivo, ci sono alcune accortezze, alcuni dettagli ai quali si può far caso per, diciamo, rimanere sull'attente, rimanere vigili in merito al problema. Antetutto mi viene in mente la cosa più banale di tutte, la temperatura. Se state utilizzando il telefono in piscina, sotto al sole, ovviamente questo sarà molto caldo, ma se la stessa cosa la fate in casa, dove c'è una temperatura normalmente media e sentite il telefono molto caldo in condizioni di uso normalissimo, potrebbe essere un campanello d'allarme per un qualche problematica inerente alla batteria. Al coltempo, quest'ultima potrebbe poi emettere un qualche odore tipo plastica bruciata o vagamente di gas e anche questo è appunto un segno di deterioramento o di danno alla batteria. E in ultimo luogo, ma perché mi viene in mente che è il più lampante anche solo visivamente, la deformazione della batteria stessa causata dal rigonfiamento delle celle interne. E attenzione, caso mai uno dei vostri dispositivi smartphone, tablet, computer o che vi pare dovesse presentare una batteria gonfia come quella che vi ho appena detto e non sto scherzando in alcuni casi diventa veramente gonfia. Mi è capitato non troppo tempo fa di avere a mano un LG K40, uno smartphone ormai abbastanza vecchiotto, il quale, la quale batteria si era gonfiata al punto da spaccare la scocca, aveva fatto esplodere il telefono in due. Quindi non sto schertando, si può arrivare davvero a delle dimensioni molto importanti di batteria. Bene, qualora doveste accorgervi che uno dei vostri dispositivi ha una batteria gonfia come l'esempio che vi ho appena fatto, provvedete a farla sostituire il prima possibile da voi stessi direttamente se siete capaci, ci mancherebbe oppure da un centro riparazione perché è davvero un pessimo presagio e potrebbe portare a dei rischi non indifferenti dal punto di vista della sicurezza. Detto questo, per parlare del secondo enorme problema legato alle batterie al litio, dobbiamo spostarci sul piano ambientale. Attualmente si stima che ben oltre il 50% delle riserve mondiali di litio si trovino al di sotto di Argentina, Cile e Bolivia, tre paesi che sono ovviamente, tra gli altri, impegnati nella lavorazione di questo minerale, il quale, nell'ultimo decennio, nell'ultima dozzina di anni, ha subito un'impennata incredibile sia dal punto di vista della domanda che a tanto più in quello del prezzo. Dei metodi per la sua estrazione ne esistono davvero tantissimi, ma il principale, il più utilizzato, è senza alcuna ombra di dubbio il più economico ed altrettanto il più facile da impiegare. Ciò nonostante porta con sé un'enorme criticità, ovvero che per ogni tonnellata di litio prodotto sono necessarie più o meno l'impiego di 2 milioni di litri di acqua, un quantitativo davvero pazzesco, spaventoso. La qualcosa in paesiare di come il Cile sta creando non poche problematiche sia ad allevatori che a coltivatori. E attenzione, con questo non intendo fare la parte dell'ecoterrorista, sia chiaro, ma soltanto mettervi al corrente di una problematica purtroppo drammatica che sta via via crescendo al pari dell'aumento della domanda di questi prodotti e quindi in maniera davvero molto veloce, peraltro poi che le alternative a questo tipo di tecnologia sono poche al giorno d'oggi e comunque non diffuse nella stessa maniera capillare in cui lo sono le batterie a litio. E quindi titoli di coda, io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto ascoltandomi spero vivamente con interesse ma ditemi cosa ne pensate di questa pseudo lezione di chimica in stile Breaking Bad. Mi ci vedete nei panni di Heisenberg oppure no? Ma soprattutto cosa ne pensate se nella prossima puntata vi spiego come caricare correttamente i vostri dispositivi alimentati a batterie a litio? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti sono sempre curioso di sapere la vostra opinione e mi raccomando se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc e questo è IT Support e noi ci vediamo alla prossima puntata. Non cambiate canale.